Non avere paura Gesù in questo brano di Vangelo descrive quello che avverrà alla fine dei tempi. Attorno alla descrizione di fatti che possono spaventarci, terrorizzarci, il Signore dice non avere paura, non ti preoccupare per quello che avverrà, rimani saldo nella fede e non dubitare della misericordia di Dio. Dal Vangelo secondo Luca Mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Infatti l'imponente Tempio verrà distrutto pochi anni dopo. A quante opere umane leghiamo il nostro cuore? Cosa rimarrà della tua vita dopo la morte? Eppure ci illudiamo e ci dimentichiamo invece di ciò che dura per l'eternità. Gli domandarono Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Un esempio sono i testimoni di Geova che fanno della paura un'arma. Gesù qui invece ci dice di rimanere sereni. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose ma non è subito la fine. Nonostante il male e la paura non dobbiamo temere. Poi diceva loro Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Gesù qui descrive un futuro terribile. Cosa ti spaventa? Anche se si realizzasse il tuo incubo peggiore Dio ha sempre l'ultima parola. Donami Signore il coraggio di esserti testimone. Avrete allora occasione di dare testimonianza Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa Io vi darò parola e sapienza così tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere Anche nel tempo peggiore c'è sempre la possibilità di fare il bene Nel saper perdonare Sopportando docilmente una malattia Aiutando chi non possa ricambiare Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici E uccideranno alcuni di voi Sarete odiati da tutti a causa del mio nome Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita Saprò confidare in Dio anche nel tempo della prova? Ti prego Signore per tutti i malati Per i cristiani perseguitati Per i bambini che soffrono per la guerra Per coloro che soffrono e vivono nella solitudine Ma prima di tutto guarisci il mio cuore dall'indifferenza Donami Signore di non disperare mai Anche nei momenti peggiori Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche Per il libretto di avvento trovi il link in descrizione A domani